devi comprare dei pannelli solari per il tuo camper o per casa tua o per qualsiasi altra cosa ma non sai quale scegliere 21 volt 42 18 35 in questo video dove ho montato la live che ho fatto lunedì ma purtroppo sappiamo benissimo che youtube non spinge le live scusate quindi la scarsa qualità ma è andato in streaming veramente una qualità primi anni 2000 però seguite il discorso fino alla fine è davvero 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 mi serve il vostro aiuto il vostro supporto il vostro commento scrivete quelle che nei commenti quello che vi può venire in mente riguardo all'argomento quindi ora bando alle ciance e vi lascio la live comunque benvenuti a tutti sul canale per la prima però non l'unica live di questo canale grazie a tutti per marco e la cucina di beba per i feedback ricevuti grazie a loro che questa live streaming è potuta partire ok scusate ma comunque la prima volta che faccio questa cosa quindi voi in questa modalità mi vedete bene oppure lagga succede qualcosa no vedete bene quindi perfetto allora perché sto facendo una live perché sto facendo un studio abbastanza articolato che parla di pannelli solari parla di pannelli solari un confronto tra due pannelli solari dello stesso vattaggio ma di diversa ma che rendono in uscita un diverso voltaggio naturalmente uno sarà il doppio dell'amperaggio dell'altro perché uno è 21 volte come avete visto al titolo e uno ne ha 12 di ampere circa allora partiamo dalla base che è questa cioè stessi stesso hardware quindi gli stessi regolatori quindi un 120 della victron 220 della victron stessi cavi stessa sezione e abbiamo la stessa batteria tutto quanto che tutto collegato così con lo stesso stessa metratura di cavi e stessa sezione già l'ho detto ok quindi cambia soltanto il voltaggio di uscita dei pannelli ora per un attimo un recap dico ho scelto le mppt perché appunto non avrebbe avuto senso fare questa prova proprio con i pvm perché la mppt diciamola alla come chiacchiera da bar la mppt trasforma il voltaggio che è superiore a quello della batteria quindi tutto quello che sopra i 12 volte che gli rende il pannello lo rende in ampere che butta dentro la batteria il pvm invece tutto quello che è oltre il 12 volte lo taglia e lo butta via quindi non avrebbe avuto senso volevo testarli per vedere se effettivamente dato che adesso spesso si vedono pannelli con alto voltaggio messi sui camper volevo vedere quanto rendesse di più usare un pannello con un alto voltaggio volevo proprio testare questa cosa qua in chat si stanno scatenando spero che quel calzino al microfono sia pulito il calzino è pulito ma vi faccio pure vedere perché nel preparare mi è caduto il microfono e se è rotto quindi però funziona quindi volevo mascherare un pochino la cosa e comunque mi fa da filtro antipop perché così fa papà e invece così fa un po meno un po meno papà ecco gli anni a suonare in studio diciamo sono serviti a qualcosa trucchetti insomma se viene in un modo per fare questo tipo di prova tra virgolette se avete dite vorrei vedere la prova un giorno parecchio buio un giorno parecchio uggioso giorno con più sole un giorno con meno sole datemi insomma spunti e magari criticità che ci possono essere rispetto a questo sistema non so se mi sono spiegato bene tutto l'hardware cioè pannelli cavi dai pannelli al regolatore regolatore alla batteria tutto uguale quello che cambia è soltanto quello che esce dai pannelli cioè uno esce 21 volt e uno esce a 42 volte insomma è questo il senso di questa live siccome sto facendo questo video sono abbastanza impegnato con questa cosa e quindi non ho avuto tempo troppo di editare video e fare cose così cosa e quindi ho detto facciamo questa cosa perché appunto su youtube si crea una community una community di persone che non solo tu dai qualcosa a qualcuno ma qualcuno da qualcosa a te quindi volevo sentire proprio la vostra ora quelle persone in diretta se hanno in mente qualcosa me lo scrivono in chat se invece le state vedete state vedendo questo video perché lascerò questa live sul canale in modo che da poter raccogliere quanti più feedback possibili a voi la parola a parte le curiosità del calzino si è la batteria a litio e da 180 ampere della litio store c'è 150 ampere di carica e 150 in scarica quindi comunque può ricevere grossi grossi flussi anche se i due regolatori possono dare 20 ampere uno 20 l'altro ma in inverno non credo di raggiungere insomma 40 ampere di carica quindi si è una batteria lì e la tengo scarica tenendo acceso due frigoriferi uno portatile e quello del camper e di giorno in giorno vado a vedere a quanto sta la batteria la sera adesso tipo vedo se è all 80 per cento al 79 per cento accendo un pochino il boiler elettrico e la butto giù in un pochino la butta un pochino giù poi così il giorno dopo può stare in buic tutto il giorno proprio così infatti in ampere in entrata 150 ampere ci vuole non so quanti kilowatt di impianto carica 150 ampere di solare grazie flavio per la domanda e la precisazione perché probabilmente non l'avevo detto perché sono partito tre volte per far sta live alla terza questa forse è quella buona perché cioè no forse mi state sentendo però divertente divertente spero penso che ne rifarò ne rifarò delle altre aspetta vedo una domanda non ho capito lo scopo di questo esperimento curiosità o per sapere cosa è meglio si lo scopo allora forse non l'ho detto preso dalla dalla terza volta e dalla bellezza di parlare lo scopo è proprio quello cercare di capire se rende di più perché appunto adesso si vede molto spesso usare pannelli diciamo domestici 42 volte così nei camper quindi volevo sapere se dato che non ho trovato dati dati o video in in giro su youtube una prova proprio mettendo a confronto due pannelli perché poi è difficile pure da trovare due pannelli dello stesso vattaggio stesso produttore è molto difficile da trovarli uguali ma con differenti voltaggi quindi lo scopo è proprio quello di capire quasi scientificamente quello che è più efficiente durante l'arco della giornata o addirittura anche quello che è più efficiente durante l'arco di una settimana due magari d'inverno è più conveniente uno piuttosto dell'altro è proprio questo lo scopo è una prova un esperimento diciamo cercare di capire quale carica meglio se carica meglio uno dei due perché potrebbe pure essere che caricano tutti e due allo stesso modo io una mezza idea me la sono fatta però poi dovrò vedremo i dati se confermano questa questa mia idea cioè non ve la dico per non cioè anzi no mo ve la dico io penso che il pannello a 42 volt riesca a dare più ampere subito prima quindi è più avrebbe più ore di luce partirebbe prima con la carica però non posso essere sicuro di questa cosa li hai già provati a diverse ore del giorno io li ho provati nel senso che li ho messi sopra e quindi quelli stanno lì tutte le ore del giorno anche della notte ma di notte non caricano quindi li ho provati per ora male in diverse situazioni perché ancora stavo vedendo perché i victor non vanno settati bene con la temperatura ci avevano siccome ha fatto freddo c'era la temperatura bassa quindi ho dovuto togliere questa sicurezza di non caricare la batteria sotto i 5 gradi perché comunque la batteria quella lì di litio store c'ha il bms che bloccherebbe la ricarica comunque se è troppo freddo quindi l'ho potuta togliere e adesso sono liberi da un paio di giorni mi sembra sono liberi di appena prendono il sole parto quale carica più velocemente si più velocemente o perlomeno non credo che sia un fatto di velocità credo che il fattore il fattore sia più che altro la re cioè quanto rende di più che magari uno c'ha quei dieci watt in più riesce a dare quei dieci watt in più durante un determinato orario magari la mattina piuttosto che la sera quanto rendono di più proprio nell'efficienza durante la giornata è questo ecco ma in caso si in caso si no no perché i voltaggi sono troppo diversi e non li potrei unire e comunque non sarebbe utile perché meno che non avessi due pannelli uguali allora sarebbe utile metterli in serie in parallelo però raddoppierei se li metto in serie raddoppierei gli ampere no in serie in parallelo raddoppierei gli ampere quindi dovrei cambiare i cavi metterli più grossi quindi maggiore spesa se li metto in serie aumenta ancora di più il voltaggio e il 120 della victron appunto gestisce 100 volt 100 volt massimo quindi ci avviciniamo al limite che sarebbero 42 42 sono 84 volt quindi ci avviciniamo pericolosamente un po al limite però si potrebbe fare ci sarebbero ci sarebbe da cambiare regolatori di carica magari per metterne un solo ma io come dico sempre la ridondanza è ottima nei camper come a casa due regolatori due pannelli può arrivare la grandinata ne spacca uno l'altro funziona ancora con un altro regolatore due regolatori se ne spacca uno l'altro funziona ancora quindi preferisco avere due regolatori con due pannelli separati piuttosto che perché un malfunzionamento si brucia qualcosa preferisco avere due pannelli separati preferisco anzi tre l'ideale mio sarebbe tre pannelli belli grossi 6 700 watt di potenza andiamo a comandare dopo di questa possiamo credo lasciarci se se non avete autarchia energetica scrive marco grandissimo bar comunque dopo aver detto questo credo di aver detto tutto amici youtuberi se avete domande scrivetele nei commenti se non guardate questa live insomma in simultanea perché adesso siamo tre spettatori addirittura però so contento un applauso a voi che mi state guardando e un grazie a tutti quelli che si sono iscritti al canale iscrivetevi al canale naturalmente aspettate che adesso avevo fatto pure l'animazione iscrivetevi al canale che è successo sono andato sopra vabbè ma fa niente questi sono i problemi della diretta non avevo mai usato sto coso vabbè sono 16 minuti di diretta che cazzo ho detto 16 minuti vabbè lasciamo perdere allora quindi scrivete qua sotto nei commenti dubbi se volete qualche altra info qualche oppure mettete proprio qui sotto delle idee perché il senso di questa live è proprio questo con la community cercare di avere un più possibile riscontro idee e probabili inconvenienti insomma scrivono qua sotto penso di aver detto tutto quindi appuntamento a lunedì prossimo se non spacco la gopro e il microfono ok ciao ciao come si chiude sta cosa ciao 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 vado a mangiare ciao a tutti